3, bravo Renze, 2 punti, così, e si scende, 1, 2, 3, 4, spingiamo sui muscoli 3, 4, spingiamo sui muscoli, e si salvia, saliamo, sali con le mani in tasca, sali cazzo e si scende guardate, Renze, non salire con i talloni, sali sulle punte, 1, 2, spingi, spingi sulle punte, spingi, va a fare la massa muscolare qua, se spingo sulle punte, così, guarda, su, vieni bravo Karan, vai e si scende con tutto il peso sul muscolo via di nuovo